C'è una squadra del Grotta che si è meritata la gloria sul campo con una stagione da schiacciasassi e con numeri straordinari specialmente per quanto riguarda le reti siglate 84 e che a tre giornate dalla fine aspetta solo l'ausilio dell'aritmetica per brindare all'eccellenza ed un'altra il Lioni che ha fatto una stagione straordinaria che può salvo colpi di scena nelle ultime tre giornate concentrarsi sui playoff I punti di distacco della squadra di sicuranza sull'FC Avellino terzo in classifica sono 10 e la prima fase degli spareggi a questo punto salterebbe I pareggi del Baiano contro il Sambitaliano e l'FC Avellino hanno spianato la strada a Torsiello e compagni Sul cammino del Lioni nelle ultime tre partite ci saranno le ostiche San Marzano e Mariglianese e la visa accese contro i Granata sarà una gara particolare per il tecnico sicuranza e per Cela ex di turno